La Ura per Vinales che è arrivata alla staccata a 300 km all'ora e ha avuto il coraggio di lanciarsi all'istante dalla moto dopo essersi accorto in un attimo di non poter frenare durante la prova della MotoGP Astilia che si corre nel circuito di Spielberg in Austria una presenza importante di spirito per il pilota che ha rischiato grosso la curva 1 del Giro 17 la sua Yamaha è finita contro le protezioni della pista rendendo addirittura fuoco, spavento ma nulla di grave, nulla di particolare, niente di preoccupante nessuna conseguenza per Vinales sotto shock al rientro a box, la gara è stata quindi interrotta come vengono mostrato le immagini televisioni televisive anche Rossi parlando con un altro pilota ha lamentato un problema relativo ai freni vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua iscrivetevi, se vi lo mi raccomando, commentate buon carissimo solo per voi da box, le ando, la rado e le ando il video che vi tagliate